Comandante Tarsia, come si svolgerà il cartellone dei festeggiamenti e quali sono le iniziative più rilevanti? Le iniziative iniziano il 19 ed è un'anteprima veramente ricca di eventi molto significativi che vanno dall'esercitazione di soccorso la mattina a una belleggiata non competitiva che coinvolge tutte le associazioni sportive e i sodalizi che a diverso titolo operano sul mare qui a Civitavecchia. La sera poi a Forte Michelangelo questo concerto con Erika Spargoli ma soprattutto con tanti momenti di incontro culturali, di coreografici dove il nostro personale declamerà alcuni versi accompagnati proprio da musiche e coreografie che sono versi tratti da esperienza di vita, da esperienze professionali, da esperienze vissute in teatri molto difficili tra i quali quelli di Lampedusa. Ecco questo è un po' a grandi linee il contenuto di una giornata che è quella di domenica che anticipa poi la festa nazionale di lunedì dove alle 18 avremo un'anteprima che qui con l'inaugurazione del nuovo viale delle capitanerie di Porto e poi la celebrazione nazionale con inizio ufficiale alle 19.30 presso il Forte Michelangelo. Sindaco Cozzolino, allora Civitavecchia ha scelta come sede nazionale per i festeggiamenti. Che significato ha questo evento per la città? Ovviamente la cosa mi inorgoglisce non poco e penso che inorgoglisca tutti i concittadini. La città andrà a ribalta nazionale perché l'evento che ospitiamo è un evento di una certa caratura. Il 19 ci sarà questa giornata che preluderà poi alla cerimonia ufficiale del 20 ed è un riconoscimento all'importanza di Civitavecchia come città marinara. Quindi è una cosa di cui dobbiamo andare orgogliosi e una delle manifestazioni che porteranno Civitavecchia alla ribalta nazionale come già ce ne sono state e come ce ne saranno. Quindi io ringrazio il corpo delle capitanerie di Porto per aver scelto Civitavecchia per festeggiare i suoi 150 anni. Grazie a tutti.